Mameti Motors, via Padula 42, Casoria Gruppo Rima Yamaka, via Arenaccia, Napoli Moto e Moto, a 100 metri dall'uscita tangenziale Varcaturo Baccaro Elettroimpianti, accendi la tua luce Prima, via Orazio 73, Napoli Moto Design Customs, in via Ida 2731 Mi sono appartato un attimino con queste due personalità che tutti conosciamo tutti noi amici di Starbikers per fare un paio di domande si è da poco concluso tutto il mondiale MotoGP, Moto3 vogliamo fare un po' un bilancio delle pagelle diciamo così, verso i piloti di questi mondiali in particolare nella MotoGP Sì, e soprattutto una domanda perché questi italiani stentano oramai? C'è stato un periodo che eravamo italiani che vincevamo in tutte le categorie e purtroppo, per fortuna, da quando è arrivato Valentino si è investito tutto su di lui e la federazione non ha fatto come gli spagnoli che hanno un trofeo Red Bull per giovani dove sono usciti tutti quei ragazzi giovani che vedi oggi nel mondiale da Lorenzo, tutti a Marquez quindi siamo rimasti un po' indietro e adesso sarà brutta nei prossimi anni perché vedo un dominio spagnolo in assoluto Valentino per quello che ha fatto meriterà sempre rispetto ha fatto tantissimo per il motociclismo ha vinto 9 mondiali quindi un grande però in questo momento non è il Valentino che ci ha abituato ad essere quello che vince 11 gare all'anno la moto è buona la moto è come quella di Lorenzo quindi se non va ci sono dei problemi che partono da lui, dalla sua squadra, dal suo team ci sono due gruppi di piloti che sono i primi tre che sono Lorenzo, Pedrosa e Marquez che sono quelli che vanno forte c'è il gruppetto di Valentino Rossi Bautista e tutti gli altri Brad, Metti, chi vuoi e poi c'è il gruppo delle CRT la realtà è questa qua Fausto, Marquez questo ragazzo che è arrivato dalla moto 2 e ha spiazzato subito tutto ma penso non ci sia mica tanto da dire basta guardare cosa ha fatto ha vinto quindi Marquez ha dimostrato che esperienza non esperienza non conta assolutamente niente l'hanno fatto in tutte le maniere per metterci i bastoni fra le raze lo volevano fare andare piano gli hanno tolto dei punti gli hanno fatti di tutti i colori capito? e lui ha dimostrato che va forte punto e basta un mondiale senza Marquez c'era da addormentarsi davanti alla televisione non ci sarebbe stato un sorpasso ci ha fatto divertire e penso che per altri 5, 6 o 7 anni sono dolori per gli altri il problema qui è che tutta l'organizzazione di tutte le corse di moto sono spagnole cioè la Dorna ha la base in Spagna gli sponsor più grandi sono spagnoli quindi loro si gestiscono sia gli sponsor col danaro che i piloti e fanno quello che vogliono purtroppo noi siamo rimasti indietro ai miei tempi quando incontravo uno spagnolo lo abbracciavo e gli dicevo grazie e loro mi dicevano e perché? perché grazie a voi non siamo gli ultimi gli rispondevo io invece adesso la differenza è che siamo noi gli ultimi questo è diventato il problema la federazione o tutto come diceva anche Lucchinelli e tutti questi spagnoli qua di là hanno un problema che non hanno la passione vengono a fare le commissioni vengono a visitare come si dice andare a vedere i circuiti sono pericolosi gente che non sa dove manubri non sono mai andati in moto quindi quando siamo in mano a questa gente qui è come la politica è uguale basta guardare il passato rifare le categorie per i privati cercare che le case proprio le case ufficiali facciano le moto la Honda la Suzuki la Yamaha facciano le moto ai privati con dei costi anche abbordabili noi all'inizio quando abbiamo fatto il mondiale prima cosa doveva arrivare nei primi tre anni nell'europeo per andare a fare il mondiale adesso c'è gente che va a fare il mondiale io non so neanche chi sono vai a vedere gente moto tre chi sono boh non ne ho idea capito perché hanno i soldi perché hanno questi hanno quelli e vanno dentro capito invece una volta non funzionava te la dovevi guadagnare sul campo tra l'altro questa bellissima intervista con questi due personaggi che io adoro si sta svolgendo alle spalle una Porsche Turbo che ci sta dando dentro sul circuito di Airola io per questo rumore mi eccito ancora mi piace moto, macchine, trattori quello che fa il rumore mi piace io a questo punto chiuderei qui questa intervista e ti rimando a te la linea in studio Lello ciao l'allio l'allio l'allio